Primo maggio 1994, sono passati 25 anni dall'incidente di Senna, molte cose sono state dipanate anche dalla stessa magistratura, altre rimangono celate nel mistero. Una morte davvero incredibile, quella del campione brasiliano della Williams, una morte che ha cambiato radicalmente il volto della Formula 1. Ne parliamo con chi c'era quel giorno. Paolo Cicarone, ciao buongiorno. Ciao a tutti. Nostro inviato sui campi di gara. Grandissimo campione, tu eri anche molto amico di Burton Senna. Ma amico è una parola che usano in tanti anche a sproposito. Però io ho sentito interviste tue in cui comunque avevate una bella confidenza. Sì ma sono ancora abbastanza umile dal non vantarmi o millantare conoscenze che erano a livello professionale. Per cui sì, avevo un certo rapporto con Senna, lo conoscevo abbastanza bene anche se erano pochi quelli che possono dire di averlo conosciuto bene. Aveva degli amici in Italia, uno tra tutti Angelo Orsi, un fotografo, grandissimo fotografo di autosprinte che tra l'altro fu uno dei primi, se non il primo, da intervenire proprio sul luogo dell'incidente. E con Senna abbiamo condiviso alcuni anni di carriera. Io da giornalista, lui da campione affermato, quindi ci siamo incontrati qualche volta. E quel giorno, quel primo maggio, ma tutto il weekend di Imola, di quel 1994, dall'incidente di Barichello, la morte di Ratzenberger, l'incidente di Senna, la tamponata in partenza, i feriti tra il pubblico. Un gran premio veramente... Successo in tutto. Se andiamo a riguardare negli anali, ci fu una concentrazione astrale di negatività come mai e poi mai nell'ambito... Al morito che perse la gomma. Esatto, nell'ambito dell'automobilismo. Per cui rimane un punto fermo nella storia delle corse e siamo qui a parlarne 25 anni dopo, un quarto di secolo. Ero giovane, avevo dei capelli in più e mi ricordo anche le chiacchierate che avevamo fatto con Ayrton proprio alla vigilia. Tra cui, ecco, direi di partire da lì. Da una stagione Williams che non era partita col piede giusto, era cambiato il regolamento, le sospensioni attive che erano il punto forte della Williams furono vietate. Senna che va a sostituire Alain Prost, il grande rivale di sempre, e si ritrova con una macchina che fino a quel momento aveva vinto il mondiale con Mansell, aveva vinto il mondiale con Prost, doveva vincere il mondiale con Ayrton Senna, ma non era la stessa Williams. Quindi una gara in Giappone ad Aida con incidente alla prima curva, un ritiro in Brasile, c'era qualcosa che non andava. Bisognava arrivare a Imola con un dubbio, il dubbio della Benetton di Schumacher, che non era regolare. Che non era regolare, ma soprattutto lui che doveva scontrarsi con le difficoltà di una pista, in un punto ben preciso, la curva del Tamburello, che non andava bene per i salti e per le difficoltà di questa curva, ma soprattutto per le difficoltà di una sua Williams, che non solo non era posta nella sospensione, ma addirittura diceva ci sono dei pezzi da fissare perché non sono ancora forti. Lo sentiamo, la sua intervista... Andiamo con la prima parte? Andiamo con la prima parte, risentiamola. Avete avuto problemi? Piccole cose, piccole cose, niente di serio. Nella mia macchina, Demo, non lo so cosa è successo. C'è un attore? Sì, ha avuto un piccolo problema lì. Non lo so, lui è uscito di pista, forse c'è qualcos'altro che si è danneggiato allora e non ho riuscito a mettere a posto. Solo piccole cose, niente di preoccupante? No, no, niente di grossa. Sì, sì, la parte che richiede invece più attenzione, più lavoro, più prove, qual è la parte della macchina che richiede più... La sospensione. Sospensione. La sospensione in generale, la messa a punto della sospensione e poi per gli ingegneri i pezzi in generale della macchina che non sono ancora forti, abbastanza per tenere, come diciamo, una presa d'aria di freno che forse deve essere rinforzata, cose del genere. Però come assetto della macchina la sospensione, l'assetto della sospensione, ammortizzatore, mole e tutto quanto. Le sospensioni sono come quelle che c'erano ai tempi, prima delle attive, nel modo di lavorare lo stesso o hanno fatto un'evoluzione enorme e si lavora in modo diverso? Un po' diverso, però non tanto, molto simile a quello che era prima. Quindi un Ayrton Senna preoccupato delle sospensioni che dal passaggio alle attive dice lavoriamo lo stesso modo ma non riusciamo a metterle insieme e poi dei pezzi della macchina che hanno bisogno di essere rinforzati perché si rompe qualcosa, si rompe un pezzo della presa dei freni. Era una Williams instabile ed era una Williams molto fragile nelle parole di Ayrton Senna. Il rumore di sottofondo era quello delle prove perché lui aveva interrotto le prove e così, come era sua abitudine, fuori dal box della Williams, si incontrava alla stampa e parlava con noi giornalisti. Una macchina, la FV16, che era sicuramente molto innovativa per quanto riguarda alcuni concetti. La scocca era praticamente identica a quella dell'anno prima ma aveva già una sospensione posteriore in fibre di carbonio, era una sospensione all'area all'interno del quale passava il semiasse. Aveva anche, se ti ricordi, l'alettone posteriore a Boomerang ed era stata la prima macchina di Formula 1 a proporre una soluzione di questo genere da un punto di vista aerodinamico, però l'assenza delle sospensioni attive, che era un po' il fiero all'occhiello della Williams, aveva trasformato radicalmente il progetto iniziale della macchina di Newey, che poi era sempre stata firmata da Newey. Sì, però Newey a distanza di anni ha confessato che quella macchina era sbagliata dal punto di vista aerodinamico. C'era un problema nelle fiancate, le pance, le hanno accorciate, quindi la macchina a certa velocità risultava essere squilibrata. E quindi era una macchina estremamente difficile, tanto che De Monil nel suo libro disse se io non riuscivo a capire come faceva Senna ad ottenere delle prestazioni da quella macchina, visto che era praticamente inguidabile. Era inguidabile, infatti per stare dietro a Schumacher, se ti ricordi, si girò alla uscita della penultima curva che porta poi sul rettilineo dei box in Brasile. Era una macchina veramente molto impegnativa, lui un po' di manico, un po' ovviamente di mestiere, riusciva a cacciare la pole, infatti ne ha fatte tre nei primi Tegra in Premio, ma poi in gara veramente faceva molta fatica nei confronti invece di una Benetton Ford, perché aveva ancora un motore Ford, 8 cilindri, 7K, quello ZTEC R quell'anno, un motore che girava fortissimo perché erano 8 cilindri, girava 15.000 giri, era un motore bellissimo, abbinato ad una macchina che era fatta da Rory Burn, se non ricordo male. Ross Brown, Rory Burn, c'era tutto il gruppo. Siamo passati a fare le macchine di Schumacher alla Ferrari, insomma direi che tutto il team Benetton poi passò alla Ferrari, insomma fu un inizio stagione molto difficile, una macchina molto complicata, Senna arrivò alla Williams con tutto un altro concept, lui aveva scelto di andare alla macchina migliore, aveva forse perso anche degli ingaggi magari anche più importanti, però il fatto di poter avere la Williams allora assicurava perché poi i campioni vanno sempre spesso dove c'è la macchina più forte. Esatto e qui nasce il primo problema. Ayrton Senna si ritrovò in un abuttacolo della Williams che non era quello solito cui era abituato alla McLaren e quindi chiese delle modifiche per rendere la posizione di guida più confortevole possibile e poter avere un volante di dimensioni maggiori e queste modifiche portarono a quello che poi è stata l'origine, la causa accertata della sua uscita di pista, ma Senna aveva un dubbio, un dubbio che si chiamava curva del tamburello perché la pista a Imola all'epoca aveva delle ondulazioni e infatti in sede d'omologazione c'era qualcuno che aveva avuto da ridire per quanto riguardava la pendenza della curva, la banchina con la via di fuga che era diversa per cui era una di quelle ipotesi delle concause dell'uscita di pista di Senna anche se non era poi la causa diretta, però proprio sull'Imola, sulla curva del tamburello direi di risentire l'intervista che ci aveva rilasciato all'epoca. Si capisce chiaramente che è peggiorata la pista perché proprio in quel punto dove c'è la striccia diversa, a colore diverso, la pista ha più ondulazione, è peggiorata. Da ieri a oggi è migliorata la macchina lì? Un pochettino sì. Il programma è lo stesso per te, per Demon? Sì, uguale. Avete avuto problemi? Rotture? Piccole cose, piccole cose, niente di serio, nella mia macchina, Demon non lo so cosa... Niente di serio nella mia macchina, quindi tutto quello che stava succedendo sulla Williams fino a quel momento era normale amministrazione. Non c'era nessun campanello d'allarme che potesse far presagire quello che poi è successo al sesto giro di gara del Gran Premio di Imola, anzi Gran Premio di San Marino 1994. Una macchina che comunque aveva già percepito essere impegnativa su quella pista, si smbalzava molto l'ingresso del tamburello, tanto che all'inizio si pensava che l'uscita di pista fosse stata dettata più da un spanciamento della vettura su questi avvallamenti piuttosto che la rottura dello sterzo. Poi in realtà le cose si rivelarono completamente differenti perché un'immagine di Autosprint poi rivelò... Dopo l'incidente. Dopo l'incidente che nel momento in cui tirarono fuori il volante e lo appoggiarono per terra c'era metà del piantone con la modifica bella in vista appoggiato direttamente sull'asfalto con Ayrton Lee a pochi passi e assistito dai medici. Tra l'altro uno dei medici era anche un suo grande amico. Sì, era più che un suo grande amico, era uno che lo conosceva bene e tra l'altro ci furono diversi episodi legati a quell'uscita. Innanzitutto Sid Watkins, che era il medico che l'aveva consolato il giorno prima per la morte di Ratzenberger perché Senna non voleva correre. C'erano rimasti tutti i mali, ma lui era molto scioccato. perché Senna era quello che quando un compagno di gara, un pilota, subiva un incidente lui si fermava, scendeva dalla macchina, correva. Quindi era molto istintivo e partecipativo da questo punto di vista. Il dottor Sid Watkins praticamente lo convince, riuscì ad essere lo psicologo che la domenica del primo maggio gli permise di sedersi in macchina, però ci fu tutta un'altra serie di cose. Limitiamoci però soltanto all'aspetto concreto. Una Williams in difficoltà, uno Schumacher campione emergente, dubbi sulla regolarità di questa macchina, nei problemi della Williams e un punto particolare del tracciato sotto osservazione. Il tamburello che tra l'altro nell'indagine del direttore di gara Brunserhead sarebbe cambiato l'anno dopo per modificare la banchina, per modificare il tutto, sennò che a questo punto accade l'incidente. Succede l'incidente, Ayrton Senna muore praticamente sul colpo perché la sospensione dell'anteriore destra lo colpisce in testa. Lui aveva un casco bell con una apertura e se avessero fatto un milione di volte l'ipotesi non sarebbero mai riusciti a ripetere la stessa dinamica ed è stato colpito praticamente al cervello come se fosse stato un proiettile. Lì tutte le manovre per salvarlo, per rimetterlo in condizioni vitali si rivelarono inutili anche se il meccanismo, le procedure furono perfette, non fu sbagliato niente. Mi ricordo che il medico, trovammo sul posto tantissimo sangue, ma non era il sangue di Ayrton, era uno dei 18 flaconi di sangue, le 18 trasfusioni che li fecero, che si era rotto e aveva praticamente sporcato tutta la zona e quando lo portarono in elicottero c'era praticamente tutta questa scia dovuto proprio ai flaconi di sangue per le trasfusioni. Dovemmo aspettare la fine ufficiale con il comunicato dell'ospedale di Bologna e da quel momento in poi è scattata la seconda fase, il perché, che cosa è successo e lì le parti si divisero perché da un punto di vista giornalistico i colleghi di Autosprint avevano individuato un punto ben preciso. Io all'epoca ero l'inviato di Rombo, avevamo capito e scoperto che era stata la sospensione ad ucciderlo, anche perché le parole di Senna che abbiamo sentito parlavano della sospensione come punto critico della Williams. Quindi i giornali italiani fecero inchiesta ed erano la base praticamente sull'indagine giudiziaria. Indagine giudiziaria che da una parte vedeva l'autodromo di Imola con i vari responsabili per la sicurezza e la gestione, dall'altra invece i periti della Williams in quanto costruttore concorrente della vettura che aveva subito un incidente e che era indicata da tutti come la possibile responsabile. Allora diamo il benvenuto all'avvocato Federico Bendinelli che all'epoca dei fatti 25 anni fa, come personaggio di spicco della Sagis, ha seguito purtroppo da vicino la vicenda Senna. Dopo 25 anni Federico ci sono ancora dei misteri da risolvere oppure è stato tutto chiarito? No, intanto saluto a tutti voi e tutti i vostri ascoltatori. No, dei misteri direi di no, mi sembra che tutto adesso sia molto chiaro, sia stato fino alla celebrazione del processo di primo grado. Perché che la uscita di pista di Ayrton sia stata determinata dalla rottura del piantone dello sterzo che quando è arrivato a Imola era già rovinato, diciamo leso per una buona parte della sua superficie, direi che questo è un dato certo, che è stato alla fine ammesso anche dagli uomini della Williams. L'unica differenza è che secondo i periti dell'aeronautica militare di pratica di mare il piantone era lesionato e quindi ormai rotto per circa il 45% del suo diametro, mentre la Williams diceva per meno del 50%, però evidentemente non era questa la differenza sostanziale. Sta di fatto che purtroppo Senna, quando già stava uscendo dalla curva del tamburello, si è trovato sostanzialmente senza sterzo e quindi ha dato diritto contro le barriere che delimitavano il circuito. Ecco, all'epoca, tra l'altro lo stesso Ayrton Senna, che abbiamo sentito nelle interviste nel Dopotest, si lamentava dei salti, del bumping che c'erano al tamburello e c'era anche un documento all'epoca della Commissione Sportiva che diceva che in quel punto per il 1995 l'autodromo avrebbe dovuto fare dei lavori. Quindi c'era un pochino una situazione confusa tra chi voleva scaricare sull'autodromo, chi invece cercava nella Williams e chi invece nella fatalità della sospensione che aveva colpito Ayrton alla testa e quindi, diciamo, quell'allone di mistero col passare degli anni magari rischia di lasciare un po' un ricordo ancora nebbioso. Che ne pensi? Ma guarda, anche quella situazione poi direi che si era poi chiarita già durante le fasi preliminari. Infatti nel provvedimento di rinvio a giudizio che ci coinvolse come responsabili dell'autodromo non ci fu contestato questo presunto dumping del tamburello quanto, e questa è una cosa abbastanza strana, il dislivello, la mancanza di complanarietà tra il termine della pista e la banchina erbosa che la delimitavano verso il fiume. Non so, forse l'avrai letto il libro dell'ingegner Giorgio Stirano che era perito di parte per conto della Williams. La loro tesi è che sì, in effetti il piantone era rotto al 35%, però la maggior parte del piantone era integro, tanto che avevano portato a discalpa del team Williams le manovre fatte da Senno, ovvero un controsterzo, un sottosterzo, quindi era riuscito a controllare la macchina e quindi volevano dimostrare che la rottura era stata una conseguenza dell'uscita, quindi era soltanto riuscire a capire qual era il punto prima e il punto dopo e stiamo lavorando su secondi, parliamo di pochi millesimi tra lo stare in pista e l'andare fuori. Sì, questo me lo ricordo, però anche questo fu sconfessato durante il dibattito processuale, a parte il fatto che quando la macchina di Senna è finita, quella famosa fotografia che fu pubblicata da Autosprint, quando la macchina di Senna finì contro le barriere risultò che lo sterzo era completamente staccato dal piantone ed era finito per terra. Ora, siccome da tutte le indagini che furono effettuate risultò che nessuno aveva staccato il piantone, il volante dal piantone, è evidente, questo è evidente che il piantone era completamente rotto quando è arrivato contro le barriere e in sede di battimentale fu assolutamente escluso che l'eventuale piccolo sobbalzo dell'uscita ha potuto determinare questa rottura. Inoltre, dalle immagini della famosa registrazione che fu proiettata tante volte, si vede molto chiaramente che Senna cerca di sterzare a sinistra, ma la macchina non risponde. Ecco, dopo 25 anni la Formula 1 da quel momento è cambiata, però l'avvocato Federico Bendinelli si è trovato in quell'occasione al centro del mondo ed era sinceramente una di quelle cose che penso che tu avresti voluto evitare, ma poi nell'ambiente della Formula 1, bene o male però, siete rimasti ancora in contatto perché tra Williams, Patrick Ed, l'ingegnere Stirano, cioè bene o male è una comunità che ha continuato a frequentarsi. Che tipi di rapporti sono rimasti dopo quel momento fra tutti? Ma devo dire che i miei rapporti personali sono rimasti ottimi veramente con tutti, non solo con Ecklestone, ma con tutti i team manager, i titolari dei team, perché a cominciare da Frank William, con cui ho sempre avuto un rapporto di grande amicizia, cioè da parte di loro non c'è mai stata nessuna contestazione nei miei confronti o nei confronti dell'autodromo. Dirò di più, quando io subito dopo gli avvenimenti di Imola andai a Monte Carlo, che era il Gran Premio successivo, mi ricordo che per combinazione arrivai il giovedì pomeriggio in un albergo di Monte Carlo e nella hall dell'albergo c'era proprio Frank Williams, che era arrivato poco prima. Allora io andai da Williams, naturalmente per salutarlo, e gli chiesi se si era reso conto di quello che poteva essere successo. E Frank, con una grandissima onestà intellettuale, e anche questo è dimostrativo dello spirito di cordialità e di amicizia che non si era affatto inclinato per quello che era successo, mi disse testualmente, non sappiamo ancora esattamente che cosa è successo, ma sicuramente è stato un fatto meccanico. Quando andai a trovare, mi pare a settembre, andai a trovare Eccleston a Londra, fra l'altro in quell'occasione poi Eccleston mi consegnò la famosa cassetta che riprendevano le ultime fasi della corsa di Senna. Quindi ci stai dicendo che le immagini del camera car c'erano, non erano quelle che abbiamo visto fino a un certo punto noi? No, sono quelle. Mi consegnò la cassetta con quelle immagini che io poi portai naturalmente al procuratore della Repubblica, al dottor Passerini che stava seguendo le indagini. Quindi ci hai svelato l'altro mistero, non c'erano altre immagini oltre a quelle già viste? Non c'erano altre immagini e Eccleston mi assicurò che non c'erano altre immagini. Io posso soltanto ringraziare l'avvocato Federico Bendinelli per questo ricordo inedito sui misteri del caso Senna, completamente risolti 25 anni dopo. Grazie avvocato Bendinelli, buon lavoro. Grazie, grazie a te. Tanto buon lavoro, grazie. Però questa è la parte di chi ha difeso la Saggis, ha difeso l'autodono di Imola, ci ha svelato alcuni misteri, ovvero Bernie Eccleston che ha consegnato le immagini. Però c'è un libro che volevo farvi vedere, si intitola Precario Perpetuo dell'ingegnere Giorgio Stirano. L'ingegnere Giorgio Stirano, uno dei consulenti, era uno dei difensori della Williams e ci sono alcuni passi del libro che vale la pena leggervi perché lui aveva portato in tribunale tutta la memoria e la difesa della Williams. Beh, tanto per far capire che cosa successe. Vi dico, un libro da leggere, vado a caso. Dice, che cosa fece Senna nel momento in cui si rese conto dell'uscita di pista? Una serie ovvie di manovre. La prima fu quella di far tornare il volante a zero. Manovra che iniziò infatti tra il secondo 11.20 e 11.40, ovvero due decimi di reazione. Ma utilizzò anche i tre modi combinati come il rilascio dell'acceleratore al 50% che iniziò al secondo 11.180 e del successivo rilascio completo a 11.460. Cioè qui stiamo parlando di un Ayrton Senna che si rende conto di che cosa succede e nello spazio di due decimi mette in atto due manovre, quello di riallineare la macchina e dosare l'acceleratore. Ma andiamo avanti, sempre secondo i dati della telemetria, dopo 0.28 secondi, ovvero 280 millesimi, Ayrton Senna praticamente mette la macchina con un'accelerazione laterale quasi a zero, ovvero aveva compensato la sbandata e a quel punto 7 millesimi di secondo dopo comincia a succedere qualcosa per cui Senna da quel momento in poi non ha più il controllo della macchina. L'unica cosa che può fare Ayrton qual è? Quella di attaccarsi ai freni. Ebbene, è entrato in curva con una via di fuga di pochi centinaia di metri in trasversale perché in realtà era più o meno a 310 all'ora. E' riuscito ad andare a sbattere tra una velocità di 120 e 160 e in frenata aveva sfiorato i 5 G di decelerazione. A questo punto chiamarono, dice l'ingegnere Stirano, Patrick Head per informarlo di quello che era emerso per cercare di capire che cosa fosse veramente successo. E da lì, da quel momento in poi, presentarono la memoria difensiva illustrando istante per istante che cosa succede. La tesi della Williams qual era? Sì, il piantone dello sterzo era rovinato ma nel 35% di tutta la circonferenza. L'altro 65% era in grado di dirigere la macchina. E soltanto dopo l'uscita, con la violenta decelerazione sulla via di fuga e quindi le manovre correttive di Senna che aveva imposto una certa forza sul volante, allora il piantone ha ceduto. Quindi la Williams sosteneva che la rottura del piantone era stata successiva alla perdita del controllo e con l'impatto contro il muro, mentre invece secondo le tesi processuali la rottura era venuta in precedenza. Sì, lì poi si scontrano molti temi. Chiaramente poi Williams mira a dimostrare che la macchina c'entra ma fino a un certo punto, mentre ovviamente l'autodromo cerca di dimostrare qualcos'altro. La vera verità è che poi la macchina è andata dritta e non si sa per quale motivo Senna non è più riuscito a riportarla in carreggiata sostanzialmente, ma è chiaro che la rottura dello sterzo sia effettivamente l'elemento che ha costretto Senna ad andare dritto, a non avere più direzionalità sulla vettura. Però ha fatto una frenata pazzesca, è riuscito a togliere un sacco di velocità e la cosa incredibile è che non ha nemmeno inchiodato, perché anche quando vede le immagini da fuori ha fatto una frenata stile ABS, praticamente perfetta dimostrando un po' anche il campione che era la sensibilità che aveva sui comandi. Quindi volendo citare l'ingegner Giorgio Stirano nel suo libro racconta e dice io non ho conosciuto Ayrton Senna nei suoi trenta e passa anni di vita, ma so perfettamente che cosa è successo negli ultimi quattro secondi della sua vita e il quadro che ne emerge è un campione unico che in emergenza in una situazione anomala, qualcosa che si rompe sulla vettura, è riuscito a correggere la traiettoria, a modulare, ci ha provato, ma era riuscito a riportare, quindi a correggere la traiettoria, a modulare il piede sull'acceleratore, a capire e voler portare la macchina in una posizione di impatto più favorevole possibile, ma soprattutto in pochi metri è riuscito a dosare due volte la frenata come se fosse un ABS umano e tutto questo con un tempo di reazione che va tra i due decimi e i 280 millesimi. Questo per far capire chi era Ayrton Senna, come pilota, come campione e come personaggio unico nel mondo che da quel 1994 in poi ha cambiato praticamente l'automobilismo. Ha cambiato l'automobilismo, ci manca tantissimo, tra l'altro in quel giorno è cambiata radicalmente anche la Formula 1 perché fino a quel primo di maggio sostanzialmente i motori erano tutti 3.500 di cilindrata, potevi collere con il V12, con il V10, con il V8, quello che volevi, poi dagli anni successivi si è via via migrato verso delle soluzioni motoristiche diciamo imposte per tutti, un po' per contenere i costi ma anche per limitare le prestazioni delle vetture. Si è lavorato tantissimo in termini di sicurezza, si è un po' appiattito quello che è l'aspetto tecnico, il riferimento nei confronti della casa automobilistica che produce quel motore perché ad esempio uno degli elementi identificativi della Ferrari è avere il motore a 12 cilindri, non si è più potuto avere una Ferrari a 12 cilindri, addirittura Enzo Ferrari fece un 12 cilindri 1.500 di cilindrata per, che era totalmente anti, non aveva senso come tipologia di motore rispetto al frazionamento, però di fatto lo fece. Era una Formula 1 a 8 cilindri, a 10 cilindri, a 12 cilindri, passo lungo, passo corto. Esatto, una Formula 1 che aveva diverse configurazioni anche sulla base proprio degli stili costruttivi del costruttore che faceva la vettura. È molto cambiata, si è molto uniformata, è diventata forse un pochino più show, è un po' meno tecnica da un punto di vista, diciamo, meccanico, si è evoluta molto da un punto di vista aerodinamico perché è stato quello poi il punto che è rimasto da evolvere rispetto a tutto quello che era stato imposto dalla categoria, ma appunto l'immagine, anzi la morte di Senna, ha completamente stravolto quello che era il concept della Formula 1 che avevamo conosciuto dagli anni 50 fino al 1 maggio 1994, ore 14 e 17. Un ultimo mistero fu quello del casco perché all'epoca la Bella aveva introdotto un casco più leggero e tutti dissero, beh, probabilmente perché il casco è leggero, non ha retto all'urto. Il professor Giavotto, consulente del circuito di Imola, calcolò che l'energia del componente, ovvero della sospensione che si era staccato, era il doppio di quello di un proiettile utilizzato per la caccia al rinoceronte. Non ci sarebbe stato assolutamente alcun modo di salvare Ayrton Senna anche se avesse usato un casco di piombo del peso di 20 kg. Che la cosa incredibile, Paolo, è che se solo a solo avesse impattato a 1 o 2-3 km in più o 1-2-3 km in meno, probabilmente la traiettoria di quella sospensione sarebbe stata differente e lui si sarebbe salvato, anche perché non ha avuto altri traumi sostanzialmente. Esatto, era integro. In quell'impatto non si è rotto niente, semplicemente ha avuto questa palla di proiettile che è entrata all'interno del casco e purtroppo gli ha provocato delle ferite assolutamente letali. Veramente è una gravissima perdita per il mondo della Formula 1, una gravissima perdita umana perché era veramente di uno spessore unico quel pilota, ma anche era una persona che diceva molto non solo appunto da un punto di vista sportivo, ma diceva molto anche da un punto di vista umano tanto che i giapponesi erano veramente anche innamorati di lui. Sì, esatto. Se ti ricordi, i ragazzi di Honda erano matti per Ayrton Senna da Silva e tanto che gli fecero anche sviluppare l'Honda NSX. Dicevi Paolo. Il processo come è finito? Assoluzione di tutti gli imputati perché la maggioranza il fatto non sussisteva, mentre per Patrick Ed e Newer il fatto non costituiva reato. Ricorso in Cassazione e poi ci fu una assoluzione per Adrian Newer nel 2005, mentre nel 2007 per Patrick Ed fu applicata la prescrizione. Comunque, come dice l'ingegnere Stirano, ho visto Frank Williams e Patrick Ed sinceramente convinti della loro assoluta innocenza e nemmeno io, dopo tutto il lavoro fatto, mai ho avuto dubbi che la Williams possa aver avuto la minima responsabilità colposa nell'incidente. Direi che dopo 25 anni possiamo chiudere questo libro e ricordare le grandi imprese di un campione che nel bene e purtroppo nel male dopo l'incidente ha contribuito al cambiamento della Formula 1 ricordando tutti coloro che in quel drammatico weekend di Imola da Barichello ferito dal pubblico e Roland Ransenberger, anche egli deceduto a causa di un incidente con cause molto più chiare, direi che oggi possiamo soltanto raccontare un pezzo di storia che posso dire per fortuna e per sfortuna mi ha visto protagonista in pista e far parte di quei testimoni oculari di quel momento. Sei stato fortunato e sfortunato nello stesso tempo Paolo, a me sono venuti i brividi ascoltando la tua registrazione tra l'altro l'avevo già sentita qualche anno fa quando sei arrivato qui in redazione, è stata una delle prime cose che mi hai fatto sentire che mi ha fatto anche un po' innamorare di te come personaggio di, diciamo, d'azione sul campo di gara e questa cosa qua insomma ti rende sempre grande onore, te la custodisci gelosamente, non la fai sentire a molti questo audio però insomma di fatto siamo veramente onorati che tu l'abbia tirato fuori per noi all'epoca e che l'abbia appunto tirato fuori oggi per ritornare a parlare un po' di Senna, di quello che è successo per celebrare il mito di questo pilota che appunto nei suoi ultimi 4 secondi di vita ha dato una lezione di guida a tutti e niente, quindi direi che possiamo chiudere qui, ho ancora i brividi, se ci penso, ho pianto una settimana credo quando purtroppo ho appreso della notizia di Ayrton che era scomparso all'ospedale di Bologna perché poi è stato dichiarato morto verso le 18 sì, 18 è qualcosa se non ricordo male, insomma fu veramente una cosa incredibile e devo dire che ogni volta che corro a Imola quando passo di lì ci penso sempre, ecco perché è stato veramente un punto di svolta per la Formula 1 ma è stato anche un punto di svolta per la mia passione della Formula 1 perché vi assicuro che come me e sono sicuro che tanti di voi sarà cambiato qualcosa di molto importante nella considerazione della Formula 1 da quel giorno in poi direi che con questo possiamo chiudere Paolo, ti ringrazio per la tua super testimonianza come sempre alla prossima parlando di gare, di risultati, di vittorie, di successi e di trionfi in pista ciao